Ciao ragazzi, io sono Guglielmo. Io sono Angelo e questo è PrimeTalks. Come vedete, oggi non sono da solo, perché nella puntata di oggi parleremo di futuro, di realtà parallele e di un al di là digitale. Ecco perché avrò bisogno dell'aiuto del mio cyber Angelo Custode. Avremo qui ospite una ragazza che a seconda di come si sveglia la mattina, si veste, si trucca, può essere o molto amata o altrettanto da... Questo proprio non è italiano, penso un po', Guglielmo, proprio grammatica... Zitto, ho capito, mi sono sbagliato, sì. O odiata, odiatissima. Ho una curiosità pazzesca, non vedo l'ora di intervistarla. A questo punto l'unica cosa che si può fare... Angelo, facciamo partire la sigla di PrimeTalks. Andiamo subito. Ragazzi, io volo, non so voi, ma volo, perché oggi parleremo di futuro, come vi stavo dicendo, e per farlo avremo bisogno di una donna come Federica Cacciola. Lo capirete presto perché, nel frattempo, benvenuta Fede. Ecco, ti aspetto, raggiungimi. Ti raggiungo subito. Diamo il buon esempio salutandoci con i gomiti, come fanno. Ah, col gomito, però in bacini a distanza. Tre, che sennò porta sfiga. Senti, ormai abbiamo questo rito di fare una foto sempre al nostro ospite. Benissimo. La mettiamo sotto, capito, e alla fine scopriremo se mi vuoi querelare oppure no. Ok, ok. Tu hai esperienza nel fare foto con... Zero. Zero. Completamente. Completamente. Ottimo. Perché ti voglio mettere... A disagio. Allora, io... Ecco, sì. Così. Esatto. Regalami, capito, con lo sguardo. Tre, due, uno. Yes. Adesso si prega solamente. Ansia. Ok, allora senti, questa qui la vedremo a fine puntata. Speriamo sia venuta bene. Altrimenti puoi sempre cuore l'armi, però ormai sarà finito tutto quanto. Quindi siamo tranquilli. Senti, come stai? Bene, bene. Io sono contento che tu sia qui perché faremo una bella chiacchiera. Ed è una chiacchiera che, diciamo, oltre che a parlare di futuro, parla di donne, sono contento. E sono anche contento per la prima volta di avere due ospiti. Sì, beh, io mi porto sempre a presto, diciamo... Un po' intercambiabili. Un po' intercambiabili, sì. Senti, da una parte c'è Federica. Sì. Da una parte c'è Martina dell'Ombra. Esatto. E anche un trillo che viene da un soldone. Un trillo, una terza personalità. Che mi dicono dalla regia essere un pacco Amazon, quindi va bene. Loro possono interrompere, questo è importante. Perfetto. Ok, senti un po', te l'avranno fatto tutti questa domanda, ma com'è nata l'idea di questo personaggio? Com'è partito tutto? Sì, me l'hanno fatta tutti. Guarda, io ti capisco molto più di quanto tu non possa immaginare. Però sono molto contenta in realtà di rispondere, perché è nato in un modo che di solito non si immagina. Molto spesso le persone mi chiedono se sia nato a tavolino, se ci sia stata una strategia. In realtà no, io facevo l'attrice teatrale da molti anni e stavo iniziando a lavorare sul grottesco, quindi su un personaggio che fosse molto dolce e zuccheroso, però poi fosse tremendo, terribile, e mettesse insieme il peggio in realtà dell'umanità. Ho scritto dei pezzi per questo personaggio e li ho registrati per farli vedere ai miei colleghi di compagnia che vivevano in un'altra città. Da totale ignorante della tecnologia al tempo, io decido di usare YouTube come se fosse WeTransfer. Ok, cioè... Quindi dico, vabbè, lo carico lì, tanto chi mi deve... Ottima, ottima... Anch'io pensai, tanto chi mi guarda. Chi mi guarda. In una notte ho ricevuto 200.000 visualizzazioni, altre tanti insulti, credo, forse molti di più, c'erano più gli insulti delle news. Ma ne parleremo. Esatto, e soprattutto quelle visualizzazioni erano di persone, per la maggior parte, che pensavano che quello fosse un personaggio vero, reale, e quindi non avevano capito che fosse un'interpretazione, un personaggio di satira. A quel punto io, che avevo lavorato tanto tempo all'interno delle performance artistiche, quindi le performance di strada, per cui mi è sempre affascinato il fatto che le persone reagiscano ad una rappresentazione artistica senza sapere che si tratta di una rappresentazione artistica. Quindi loro diventano parte della rappresentazione perché reagiscono ad istinto, per cui ti danno ulteriore materiale per lavorare. E loro ho detto, beh, che bello, d'altra parte i social sono la nuova piazza sociale, il web iniziava ad essere la nuova piazza sociale, come poi effettivamente è diventato, e quindi da quel momento ho continuato, tirandomi dietro le ire e le critiche. Funeste. Che poi io non ho mai capito questa cosa, perché per me era chiaro. Quindi io ho avuto momenti di dibattito nei quali avevo persone che dicevano, ma no, ma no, ma è vero, ma è vero, ma è vero. Ho fatto, ma no che non è vero. Ma si capisce da come costruiva determinate cose che sembrava proprio un'esca lanciata per... Capito? Cioè, era chiaro. Sì, solo che tu conosci il web e evidentemente hai degli strumenti di interpretazione dei linguaggi che non molte persone hanno, ma in realtà questa cosa purtroppo la vediamo tutt'oggi. Guarda, ne parleremo, parleremo un pochino più approfonditamente di questa cosa. Mi interessa sapere dove sei adesso invece. Dopo il coming out, io sono Federica. Non lo so, se lo sapessi forse sarebbe finito il mio percorso artistico, probabilmente. È una bella frase, è interessante. Sono alla ricerca, come ero prima in realtà. Non che Martina abbia mai rappresentato un punto d'arrivo, è stato un percorso, è tuttora un percorso perché è un personaggio che continua ad usare per fare satira. Però sono all'interno di una ricerca che mi ha portato a fare la radio, che mi ha portato a condurre in televisione, che mi sta portando a fare tanti altri programmi, a scrivere e continuo verso questa ricerca artistica. Questo è buono. L'importante è che tu oggi sia pronta a una sola cosa, a delle domande scomode. Beh, quello. Che ci sono arrivate tramite Instagram, ma credo che tu più di chiunque altro possa affrontarli tranquillamente. Io ho paura per te. Mi chiedo, quando arrivano domande per me, io rimango all'invita. Noi vi ringraziamo perché è arrivata veramente, in generale arriva tanta tanta roba. E quello lì è molto molto divertente, ma anche qui ne parleremo più avanti. Parliamo oggi di Upload. Hai visto la serie, hai avuto modo di capire più o meno come funziona? Che ne pensi? Sì, io la serie l'ho vista, credo di essere stata la prima persona che l'ha vista. Ah, subito proprio. È uscita e l'ho beccata subito. Devo dire che era un periodo, l'ho vista nel periodo di quarantena, appena è uscita, quindi mi ha veramente un po' salvato la vita, perché ero proprio alla ricerca di qualcosa che mi piacesse. Io nella vita mi occupo di comicità e il mio genere preferito invece per quanto riguarda l'intrattenimento sono i generi distopici, quindi questa serie mette insieme due cose che mi fanno impazzire, per cui chiaramente a me è piaciuta, perché a me piace un po' quello stile, mi piace soprattutto la capacità di poter associare ad un tema che parla di futuro, di tecnologia, di un futuro distopico, appunto anche di fantascienza. Che subito pensi che possa essere magari un qualcosa di più... Un po' ansiogeno, come altre cose, e invece ha un tono ironico e leggero, che poi è il tono che io preferisco. Sì, l'unica critica che io faccio sempre a questi prodotti è quando ti mettono davanti a una cosa che non potrei mai avere nella vita, tipo un cane che ti dà dei consigli. Cioè se il mio cane fosse un labrador che mi fa da psicologo, io molto probabilmente sarei una persona migliore. Però non è detto che i cani non possano fare da psicologi, secondo me sono ottimi psicologi. Ok, siamo già a questo punto e abbiamo appena iniziato. Pensa, d'altra parte tu parli, quello ti guarda e alla fine è quello che fa lo psicologo. È vero. Cioè ti fa tirare fuori, ti guarda e tu pensi, sì è vero, tu non hai lavorato quel trauma. Io non ho mai detto niente. Allora, molto bene, direi a questo punto di partire con la prima clip, Angelo date una mossa. Vabbè, per favore non ce lo mettiamo, no? Capone proprio fino alla fine. Vabbè, per favore date una mossa. È congelato fino al mese prossimo, a meno che qualcuno non aggiunga soldi al conto, ma la maggior parte di loro non ha soldi da parte. Il loro piano non prevede nemmeno una tuta da ginnastica. Oh, aspetta. Quell'uomo non ha il pene. Credo che sia alla fine del mese. Ah, non ci credo, si sta facendo dai vestiti con le scatole di cucina magra. No, non credo che... Oh. Ok. È impressionante a dire il vero. Horizon dovrebbe dare a qualunque persona un pene. Allora, allora... Non posso che essere d'accordo, comunque. Parliamo come... Lo dicevamo prima, è una serie leggera, è una serie distopica, è un po' un prodotto che non si vedeva, però qua, in questa scena, la butta un pochino, così entra a gamba tesa, sul capitalismo. Cioè, sul fatto che effettivamente, anche in questo al di là, i ricchi vanno alla grande e i poveri, i poveretti, stanno lì a elemosinare, a dover trovare dei modi per inventarsi qualcosa. Secondo te è una cosa che continuerà a essere così? Cioè, questa forma di capitalismo sociale, dove i ricchi si trovano... Guarda, secondo me andrà sempre peggio. Mi spiace, perché c'è una mancanza di ottimismo. Questo era l'ottimismo... Esatto, l'ottimismo by Federica Caccialla. In realtà andrà sempre peggio, ma questo è piuttosto evidente dalla piega che ha preso la società, nel senso che è una scelta, è una società che si basa sul classismo. Io credo che il classismo sia la base, la madre di tutte le discriminazioni. Purtroppo ce ne sono ancora tantissime nel mondo, e una delle discriminazioni, secondo me, più forti in assoluto è quella proprio fra persone ricche e persone povere. Le persone ricche, diciamo, non hanno mai le difficoltà sociali, umane, nella vita in cui si trovano invece le persone povere, ma questo anche a livello di paesi. Sì, è vero. Nel mondo, quindi non soltanto di classi sociali o di reddito all'interno di uno stesso paese, ma proprio molto banalmente paesi ricchi e paesi poveri. La vita è completamente diversa. E aggiunge anche il fatto che ad oggi i social network giocano un ruolo fondamentale in quelle che sono le possibilità delle persone. Non a caso è bello vedere le persone in spiagge, è bello vederle in queste spiagge bianche con l'acqua cristallina. Non tutti possono permettere. No, peccato che esatto, quelle cose creino molta invidia sociale e soprattutto fanno rendere conto. Io credo a queste cose ci sono sempre state, voglio dire, d'altra parte abbiamo avuto, credo che sia stato sempre difficile nella storia dell'umanità avere società equitarie e paritarie, anzi. Forse è il nostro più grande obiettivo come specie umana e non ci siamo ancora arrivati. Devo dire che oggi rispetto ai secoli scorsi in cui c'erano situazioni, anche tipo la monarchia, che era una cosa totalmente fuori dalla vita delle persone comuni. Oggi la differenza è che tu proprio puoi osservare la vita dei privilegiati e quello è lo standard, il modello di vita che tu pensi sia la vita giusta, la vita che le persone dovrebbero fare. E che sia spesso disposti a sacrificare tanto pur di mostrare un qualcosa. Io ho avuto gente che piuttosto non si pagava l'affitto, puoi avere una tot borsa, una tot vacanza. Ma perché nel momento in cui quello viene venduto come valore, nel momento in cui tu pensi che quello sia un valore, effettivamente tu come essere umano cerchi di adeguarti alla società circostante e pensi che io devo fare in modo che gli altri riconoscano il mio valore come persona, senza considerare che in realtà il valore come persona non è sicuramente dato dalle cose materiali. Può sembrare un discorso, in realtà è un discorso che a parole fanno tutti, perché nessuno effettivamente dice, neanche quelli che ostentano viaggi, vacanze, ricchezza, non è colpa loro, mostrano la loro vita. Però spesso non ci si rende conto che questo può generare, soprattutto nelle persone credo più giovani, un po' una confusione su quelli che siano, ma anche sulla differenza tra i social e la realtà. Ah, ma li apre un mondo. Cioè li apre proprio un mondo, perché tante volte vedo dei commenti, io ho ricevuto tantissimi insulti. Guarda, io ho così tante curiosità, cioè io ho le curiosità, io, capito? E tante volte però vedo anche tanti complimenti a tante persone, anche quando ci sono i complimenti, io mi chiedo com'è che una persona che sta commentando su Instagram o un'altra persona che vede sui social, come fa ad associare quello che sta vedendo ad un giudizio su quella persona e in realtà non la conosce? Quindi anche immaginare, così come ovviamente è sbagliato l'insulto, ci mancherebbe, poi lì si va anche nel reato ovviamente, ma anche il complimento tipo se è una persona stupenda e meravigliosa, io a volte penso, ma perché? Non me lo merito. Ho scritto, magari ho scritto una cosa carina, ma tu non sai io come sono, se effettivamente questa cosa me la merito o meno, non sai come sono nella mia vita. Fidatevi, se la conosceste non... No, non l'ho scritto appena nessuno. L'avevo evitate la prossima volta. Senti, c'è un'altra considerazione che volevo fare, che è un po' più forte. Sì. Questa scena un pochino mi ricorda te. Ora so che tu non... Non ho il pene sicuramente. Sì, quello sicuramente... Non lo confermo. Non so se stai cercando di ottenerlo a fine mese. No, sta bene come sta. Però questo discorso legato a un qualcosa che manca, che qualcuno vorrebbe insomma creare, questa possibilità di plasmarsi, è un qualcosa che in qualche modo mi fa fare un'associazione su quello che è stato il tuo processo creativo proprio di genesi di un'altra persona. Hai dato vita proprio a un personaggio che addirittura aveva una personalità completamente diversa dalla tua. Qua, ora, la voce di Martina, c'è mai stato un momento in cui hai pensato questa può essere un'opportunità per... Partendo quindi da un inizio inconsapevole, un momento in cui hai detto, aspetta però... Forse posso dare voce a qualcosa, posso arrivare da qualche parte? Sì, sì. Cosa? Allora, questo in realtà è proprio la base del percorso creativo. In realtà in questo tutti noi esseri umani abbiamo un potere e forse il potere creativo è davvero il potere più grande che abbiamo. Da ogni punto di vista. Creativo che sia dal fisico di generare vita ma anche dal generare vita sotto qualunque tipo di forma ed ogni essere umano ce l'ha e credo che sia proprio l'aspetto più bello degli esseri umani. Perché più magico. Esatto, sì, perché proprio così è vicino alla fantascienza in realtà. Cioè una cosa non c'è, dopo c'è. Quindi sì, in questo effettivamente è vicino. Io credo che qualunque lavoro attoriale, anche quando si tratta di personaggi magari meno strutturati, comunque debba partire dal riconoscere un valore al personaggio che stai costruendo. Per cui anche se è un personaggio orrendo, cattivo, che mette insieme tutte le cose peggiori dell'umanità come nel caso di Martina dell'Ombra perché Martina è razzista, classista, omofoba e tremenda, mette insieme veramente il peggio però deve essere creato facendo riferimento a delle cose che esistono. Quello a cui ho voluto dar voce è proprio il peggio dell'umanità. Infatti il cognome dell'Ombra identifica proprio l'Ombra Jungiana a livello di inconscio collettivo. Quindi la cattiveria collettiva, tutto il male che molto spesso si pretenda sotto una forma molto carina. Carina e inconsapevole. Carina e inconsapevole. La banalità un po' del male per fare una citazione, però è così. Il male è così molto spesso e non ce ne accorgiamo. Ed è anche uno dei peggiori perché è quello inconsapevole. Sì, io non conosco una persona razzista che ammetta di essere razzista. O una cattiva che dica che effettivamente sono una merda. No, no, si nasconde sempre dietro tante motivazioni, dietro tante forme di pensiero che non sono così dirette, che sono più complesse da sviscerare. Quindi quello che volevo fare con Martina era proprio sviscerare, andare alla base di quel ragionamento, permettendo anche che Martina è frutto della società. Quindi lei proprio deriva esattamente la copia dal mondo in cui viviamo. Esatto. Parlando di Martina, secondo te, se esistesse l'upload, lei dove starebbe? E cosa direbbe? E ti dirò di più. Se non sbaglio c'è, perché là sotto, una maschera, una maschera, è inquietantissima, sembra la maschera di Kim Kardashian a tratti, quindi è una maschera che se vuoi puoi utilizzare. Mi fa paura. Posso vedere un secondo come ti starebbe? Cioè, guarda, un secondo, è un triquarti, quindi tu teoricamente dovresti stare così per essere incredibile. Così, allora così. Esatto. Ciao a tutti! Senti Martina, dov'è che ti troveresti tu nell'upload? Cosa pensi dell'upload? Allora, penso che l'upload sia un attimo modo per vivere per sempre e sicuramente mi comprerai il posto più top class. Non avevo dubbio. Senti, allora, passiamo subito... Aspetta, però devo far vedere anche le tette. No, ti prego, anzi, non lo so. No, subito Martina era lì pronto a fare dettagli. Allora, abbassa la maschera che sei pericolosa, sei molto pericolosa. Guarda che, guarda che è inquietante e pauroso. Senti, allora, a questo punto, se a te va bene, partirei col primo gioco della puntata di oggi. Yes. Will or Will Not? È una puntata speciale perché quello che vorrei sapere è delle varie affermazioni che ti farò, vorrei sapere se a farle sarebbe Federica o Martina. Ok. Ok? Ok. Quindi mi alzi la paletta, te la gestisci tu. Questa è Martina, questa è... Esattamente. Prima domanda, caricarti nell'upload se esistesse. Io lo farei sicuramente, anche perché io sono troppo figa per morire. Ok, la cosa triste è che lo farei anche io per gli stessi motivi, inizio a preoccuparmi. Sei un Martino. Sì, sono un Martino. Io no, non lo farei invece. Ma come farà? Ma è di attentissimo. No, no, mi metterebbe troppa ansia. Comunque, c'è anche un... bisogna anche avere un'idea della vita di destino, cioè basta, a un certo punto finisce e poi semmai c'è un'altra vita, se poi viene la rincarnazione. Ah, ok. Nuova, almeno sei una persona nuova. Giusto. Io vivrei con l'angoscia di essere sempre me stessa per sempre è pesante. Io, se c'è l'upload, va benissimo. Andiamo con la prossima domanda. Indossare una tuta da sesso se esistessero? Io assolutamente sì. Anche perché così il sesso è meglio, secondo me. Perché? Vabbè, perché un po' puoi aumentare le percezioni e puoi aumentare, credo, anche le dimensioni, vero? Guarda, non lo voglio sapere. Spero di sì. Ovviamente io no, ripeto, sempre per il principio di prima. No. Dici no? No, tutta da sesso no. Eliminare Martina? Nessuno. Eliminare Federica? Io sicuramente sì, perché tutte queste intellettuali, donne che non mostrano le tette, donne che non la danno in giro, super facile per lavorare, non ce ne facciamo assolutamente niente. Grazie. Prego. Grazie per i tuoi valori, Marti. Senti, viaggiare nel futuro, se fosse possibile. Io, come me stessa, sono super curiosa. Io pure. A me chiedono tante volte, se tu potessi viaggiare nel tempo, in quale epoca andresti? No, io andrei avanti. Sì, io vorrei vedere e credo, cioè, io vorrei andare avanti per poi dire, ecco, c'avevo ragione, è tutto orrendo, sempre per l'ottimismo di qui sopra. E questo è sempre l'ottimismo di Federica Cacciola. Esatto, però vorrei andare tantissimo nel futuro. Allora, fidarsi di un cane psicologo. Io? Io mi fido dei cani psicologi, in realtà, anche io. Però, immagino per motivi diversi. Per motivi diversi. Il mio, perché Copen, diciamo, è il mio cane, che mi porto ovunque, e soprattutto, quando tu hai un cane, le persone pensano che tu sia una persona super buona. È vero. Questa è importante. Giustissimo. Io invece, penso che i cani siano un po' psicologi. Ci credo. Che ci posso fare? Ok. Capiscono, non la psiche, capiscono però l'anima delle persone. Allora, è la prima volta che mi capita che un personaggio, cioè, che una persona sia più interessante, criptica del suo personaggio. non me l'aspettavo, eh. Io ho paura ad andare avanti. Preoccupati. E' finito così? Prime Talks. No, dicevo, allora, entrare ufficialmente nella politica. Io assolutamente sì. In realtà, già ci sono entrata sotto varie forme. Mi sono candidato, ho fatto video politici, ho fatto campagne elettorali per Trump, sono stata fidanzata di Super Salvini e adesso aspetto di essere fidanzata del nuovo premier. Wow, te lo auguriamo tutti quanti, Martina. Grazie! Niente, guarda, farlo a tre. Sempre io? C'è stata un'incertezza, però, nella maschera. Perché lo farei con Donald e Melania insieme. Ah, che bello. E' il mio guilty pleasure. Io immagino così l'inferno, pensa a te. Io il paradiso. Però puoi venire anche tu, se te fa piacere. Grazie, credo di essere uno di troppo. Io invece no, non lo farai mai a tre, perché sono di una gelosia inverosimile, credo che compierei un omicidio. Ma non devi per forza essere fidanzata per farla a tre. No, a che c'entra? Io sono gelosa a prescindere. Sì, sì, certo. In realtà, a volte, mi è balenato nelle fantasie, e poi ho pensato, sì, però, poi, mentre lui inizia a baciare un altro, io... Pensa se fosse a baciare un altro. Peggio. Beh, è gelosia. Io sono gelosa a tutto tondo. Certo. E va a dare le tasse. Ma scusate, ma gli autori l'hanno fatta apposta, però. Allora, le tasse, le persone veramente ricche, non le pagano. Non so se lo sapevi, però è così, quindi mi sembra ovvio, non è neanche reato. Allora. Io invece le pago tutte, tengo a sottolinearlo, sia mai che poi qualcuno ribecca questo video con una maschera. Ha detto le seguenti cose. Allora, abbracciare il buddismo. Io? Come Federica. non avevo dubbio, io ho già capito tutto quanto. Siamo due estremi. Abbracciare il buddismo, io, anche se è molto complessa. Sì. Non è, non è un approccio spirituale semplicistico, come può sembrare, e neanche così tanto New Age. Apprenderlo seriamente è un percorso spirituale molto bello, però anche molto impegnativo e faticoso, però lo farei. Ultima domanda, sposarti. Entrambe. Io mi voglio sposare super presso, anche perché le donne se non si sposano che cosa fanno? Sono inutili proprio, no? Giusto. Io non lo escludo, invece, cioè come persona, cioè non sono, non sono, né ovviamente l'obiettivo né il sogno della vita, che se non fai quello sei incompleta. No, anche perché, insomma, diciamo, ci sono anche, ci sono tante cose più interessanti, però in realtà all'interno di un rapporto, perché no, se uno si ama, è anche una cosa bella. Fede, grazie mille per aver giocato intanto, io direi di andare avanti. Andiamo. Guardiamo la seconda clip, Angelo, per favore, possiamo farla partire? Tranquillo, ci penso io. Non arrabbiarti, ho già fatto tutto io. Resti ferma. E che cos'era? Sono cellule staminali, non vedo l'ora di andare nell'upload, così non soffrirò più. Sei fortunato. Scusami, non intendevo esattamente ciò che ho detto. No, hai ragione, è molto bello qui. Vaginoplastica, signorina. Come scusa? Oggi c'è il funerale del mio fidanzato. Quindi, no? Già, no. Ok, parlando di vaginoplastica, in realtà non vorrei parlarne, però c'è una domanda che io devo fare, non a te. Ok, sulla vaginoplastica. Sulla vaginoplastica. A chi la vuoi fare? Ma secondo te? Potrei mai... Eccomi! Potrei mai farla, Federica. Allora, cosa ne pensi? È qualcosa che faresti o no, Martina? Gui, ti posso dire una cosa? Ti do uno scoop. Le abbiamo già fatte quattro. Io l'ho già fatta! Io l'ho già fatta, superati i 25, e qualunque brava ragazza dovrebbe rifarsela. Grazie mille, Martina. Guarda, ringrazierò gli autori fino alla fine dei miei giorni per questa bella idea. Senti, perché almeno lo chiedi? Vuoi sapere? No, no, no e no, no. Senti, io volevo farti invece una domanda un pochino più profonda ed è una delle mie domande preferite di oggi. Qua si parla e si mette in scena uno stereotipo di donna, ok? Ce ne sono vari. Qui ci troviamo davanti alla superficiale, alla donna che senza una relazione non è nessuno, a una donna che addirittura paga per dare, diciamo, una mano a un compagno che manco la ama. Esatto. Perché? Forse per paura di stare sola. quanto è reale questa cosa? Perché continua ad esserci questa concezione? Allora, dipende, io non la vedrei dal punto di vista di stereotipo. Ovviamente questa è una serie comica, quindi è chiaro che ci sono delle cose che vengono un po' semplificate. Il personaggio di per sé fa molta tristezza, ovviamente. Non credo che sia una cosa relativa alle donne soltanto, nel senso che le persone superficiali, superficialotte non in grado di fare un passo senza una relazione sentimentale ci sono tutti i generi di tutti i tipi. E anche qua dentro ce ne sono tantissime. Anche qua dentro ce ne sono tantissime e magari anche tra di noi. Si, si rascondono. Anche qua. Quindi, in realtà, rispecchia, rispecchia la realtà. Sul fatto che spesso le donne vengano descritte in questo modo c'è da comprendere che quando una donna viene descritta anche spesso con uno stereotipo anche se quello stereotipo può avere una base di verità in alcune realtà si fa sempre riferimento al fatto che la condizione della donna l'ha portata a trovarsi in determinate situazioni molto spesso è così. Cioè, nel senso la storia del genere femminile è la storia di un genere comunque sempre discriminato. Sì, è vero. Sempre discriminato, sempre dipendente da un altro genere tenuto in una condizione di sudditanza proprio tenuto quindi a cui non sono stati dati gli strumenti e che solo in tempi recenti ha avuto modo di essere libera, di potersi esprimere, di poter finalmente decidere ed autodeterminarsi. Io credo ancora che ce ne sia comunque di strada assolutamente da fare. No, ce n'è tantissima da fare e poi bisogna sempre capire una cosa che le donne sono come gli uomini, sono stronze come gli uomini, stromite come gli uomini, cioè nel senso ce ne sono di tutti i tipi. Ci sono donne che riescono effettivamente ad avere dei valori più profondi e donne che invece non ce la fanno esattamente come tutti gli esseri umani in realtà. Per cui credo sia soltanto un modo per raccontare un tipo di realtà almeno voglio vederla così e credo che sempre più la società andrà a cambiare e sempre più i modelli raccontati cambieranno. Insieme a questa. Sì, me lo auguro. Lo speriamo tutti quanti. Allora facciamo di nuovo un salto nel futuro. Allora abbiamo fatto una ricerca l'ha fatta Angelo per noi grazie mille Angelo. Un domani ci saranno dei lavori che non puoi neanche immaginare. Immagino. Puoi immaginare e non immaginare perfetto. Senti un po' ti propongo questa sfida ti darò ogni volta due lavori uno contro l'altro uno è reale e l'altro non lo è. Ti spiegherò anche cosa fanno. Uno esiste già. Uno esiste barra esisterà per farti capire quanto siamo avanti qua eh. Ok. Qui la redazione proprio fa dei salti assurdi e l'altro invece è completamente inventato. Ok. Vediamo se il tuo naso però mi aiuti io sono super competitivo non voglio perdere. Non vuoi perdere? Allora mi impegnerò tantissimo per in modo che ciò venga. Allora quindi concentrazione abbiamo da una parte il Walker Talker e dall'altra abbiamo il Binge Watcher il Walker Talker e niente non ce la faccio ma per dirlo il Walker il Walker Talker spero non sia questo il mestiere perché se no non potrei mai usufruirne professione che non richiederà particolari competenze tecniche grazie ad una piattaforma digitale il Walker Talker commentate tutti quanti con Walker risponderà alle richieste di compagnia come ad esempio una passeggiata o di conversazione delle persone più anziane quindi fa compagnia alle persone senza bisogno di essere presente lì dall'altra parte abbiamo il Binge Watcher professione che non richiederà particolari competenze tecniche anche questa il Binge Watcher professionale dovrà guardare un'ampia quantità di serie tv in anteprima per valutare misurare e determinare quanto Binge Watcher quanto Binge watching causano queste serie tv oddio sono assurde allora allora cerchiamo di ragionare vai vai ragiona il Walker te ne prego allora il Walker coso Walker Talker il Walker il Walker Talker secondo me è molto utile mi sembra un po' strano però che sia in maniera digitale cioè fare compagnia digitale agli anziani anche se penso se devo pensare ai tempi recenti effettivamente c'è stato bisogno di questa cosa sei inquietante così però non fa capire niente mentre il Binge Watcher di professione ci sono sicuramente le persone che guardano le serie televisive per professione però che lo facciano per vedere quanto quanta dipendenza generano mi sembra un po' assurdo per cui secondo me esiste il Walker coso bravissima il Walker coso sì sì allora abbiamo un punto un punto andiamo avanti traduttore canino contro sarto digitale ok il traduttore canino si occuperà di interpretare tradurre e mediare dalla lingua canina alle lingue utilizzate dagli umani è un intermediario della comunicazione non scritta tra persone e cani dall'altra parte abbiamo i sarti digitali che andranno a casa dei clienti al dettaglio per customizzare la visibilità e la finitura dei loro abiti ordinate anche tramite e-commerce grazie alla scansione 3D del corpo collezioneranno gli avatar dei propri clienti in apposite banche dati questi mi sembrano tutte e due vero simili tu con i cani però c'è nel senso io con i cani parlo dialogo e questo qui è un'altra puntata è un'altra puntata cioè nel senso sicuramente esistono già le persone che fanno da mediatori in qualche modo forse sono più che traduttori educatori del comportamento perché se non sembro tipo Vanna Marchi esatto e quindi forse la seconda bravissima bravissima è il sorto digitale il sorto digitale allora abbiamo un digital death manager contro un cancellatore di traumi da una parte abbiamo una specie di consulente in ambito tanatologico ok che aiuta le persone a organizzare le proprie memorie ed eredità digitali ah io lo voglio questo ok dall'altro abbiamo invece una specie di ibrido tra psicologo e programmatore che aiuta le persone a cancellare i propri traumi subiti allora psicologo e programmatore significa che la tecnologia è così avanti che riesce a fare come se mi lasci di cancello un film esatto e cancellare le memorie traumatiche se vabbè fantascienza però ho letto qualcosa di recente io rimarrò immobile lo so che queste sono delle tecniche per capire per estirparti perché ho letto qualcosa di recente in merito no non era uscita la cosa recente che diceva qual è l'altro ok qual era l'altro detto quello lì perché quando mori però quello lo fa già il social media cioè un social media manager lo fa cioè ti accordi no sarebbe per chiunque cioè è una cosa che verrebbe implementata insieme praticamente al testamento questo per onestà capito cioè che poi non venga detto cioè il notaio lo fa questa cosa no lo fa proprio il digital debt manager non lo so perché in realtà esiste già questa funzione cioè tu puoi già su facebook decidere chi lasciare in eredità il tuo questo me lo devi dire tu Federica se no giocavo io il secondo eh no era il primo eh no tu mi hai tratto d'inganno io ho anche cercato di dirti non è vero ma guarda che non esiste già guarda che non esiste già cioè esisterà eh sì esisterà secondo me esiste già Baro ve la prendo con gli autori stanno lì se vuoi ti aiuto io a picchiarli secondo me ho ragione io posso dire terzo punto per me non esiste proprio allora devi riuscire a vincere alla fine quante ne mancano eh ce ne abbiamo tre quindi hai ancora possibilità di fallire ok lo divince cookie detective contro memory curator cookie detective è quello di biscotti sì io un po' lo sono in realtà quanti ne hai mangiati indaga cercherò in prima quanti ne hai mangiati tre ti giuro no 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 almeno set quanti ne hai mangiati esatto allora no il cookie detective come un misterioso astronomo saprà leggere nelle galassie di dati le costellazioni di lead generation che si tramuteranno in vendite sicure praticamente le cookies parlano e questo detective saprà decifrare il loro linguaggio incrociandole allora questo è così complicato che era impossibile che se lo inventassero secondo me ti leggo l'altro vai il memory curator sarà responsabile del lavoro con i pazienti per creare mondi virtuali in cui abitare queste esperienze saranno popolate con simulazioni realistiche del loro passato no il primo era il secondo no lo so no no ahia due andate due perse cavolo no no cavolo Fede quindi c'è della gente che si è messa a scrivere tutta quella cosa sul cookie detective si chiama Laura bene si chiama Laura va da uno psicologo cane esatto sicuramente evidentemente brava Laura siamo riusciti a fregarla bravissima bravissima quindi questo genera delle memorie virtuali ma è una cosa tremenda questa cosa no quello che fa che poi in realtà se ci pensi è un pochino come in psicologia quando fanno le costellazioni le costellazioni familiari familiari cioè è una forma di che poi non saprei descrivere tu ricrei è una rappresentazione è una rappresentazione coinvolgi altre persone e dici questo qui farei suo padre sua madre senza dire nulla a queste persone e poi si sviluppano effettivamente dei nodi a volte si sciolgono esatto solo che in questo caso lo ricreano a livello virtuale come l'upload praticamente un altro mondo un po' inquietante posso aggiungere molto in presenza molto al limite il fatto che vincesse questo mi ha fatto paura senti le altre due puoi sempre perdere lo sai però posso anche vincere se tu ti comparti in modo allora abbiamo adesso abbiamo adesso architetto della spazzatura contro architetto di sogni il primo prenderebbe rifiuti trasformandoli in arte rendendoli sinonimi praticamente ok grazie all'architetto della spazzatura infatti questo artista ecosostenibile sarà responsabile della categorizzazione delle grandissime quantità di spazzatura che ci saranno in futuro e la creazione di strutture rivoluzionarie per trasformare i rifiuti in arte il secondo l'architetto di sogni dovrà occuparsi di disegnare sviluppare visualizzare e costruire i sogni perfetti dei suoi clienti eliminando qualsiasi tipo di minaccia o incubo che possano interrompere lo sviluppo di sogni positivi che garantiscono un sano stato mentale è assurdo questo eh lo so tu cosa diresti? no il primo il primo è giusto è vero? sì è vero a questo punto siamo in un momento fatidico ok ne ha indovinate tre sì e due le hai toppate quest'ultima o ti farebbe pareggiare o ti permetterebbe di vincere ok cosa? niente allora la dignità la dignità del vincitore la dignità del vincitore ecco è proprio quella di cui vorrei parlare allora stampatore di organi tridimensionali contro sviluppatore di cibo 3D il primo cosa farebbe sarebbe un tecnico specializzato che dovrà essere in grado di ricostruire le forme desiderate con i tessuti opportuni ok quindi dagli organuli più piccoli fino a grandi regioni di pelle ad arti o addirittura volti interi cambiando il mondo della medicina praticamente più che altro il mondo di trapianti la vita la vita delle persone una cosa assurda ok e la seconda invece di dire la stampante scarica ma ti manca il nero mi stampo il rene no mi manca un po' il mone capito mi manca un po' di rene l'altro invece è tecnico specializzato che dovrà essere in grado di disegnare e costruire ricette perfette interamente in grafiche tridimensionali attraverso l'utilizzo di printer 3D la sua competenza sarà a cavallo tra la programmazione e la nutrizione quindi invece di dire il frigo vuoto ti dirò ho la stampante scarica non c'è niente da mangiare questo è difficile è difficile è ardua è ardua e cos'è che direbbe il tuo istinto Fede il tuo istinto da persona comunque corretta e onesta allora guarda secondo me sembra fantascientifico però secondo me quella giusta è la prima che schifo come che schifo ho indominato è giusta è giusta ha vinto che schifo zero dignità ma che cosa scusami zero dignità no no ma non è giusto ma non è per questo un complotto abbiamo preso uno stop tecnico perché pioveva avevamo già letto questa domanda ma non è colpa mia e le si è avvicinato Dario l'autore dicendo Federica fossi in te la sbaglierei visto che lei si era uscita prima con la stampante dei 3D del cibo vabbè ma scusa chi persevera nei propri errori è uno stolto esatto invece io ho detto la risposta esatta però per il bene insomma del divertimento e della realtà dei fatti io vorrei mandare un rvm ok come nei migliori programmi tv no un rvm nel quale facciamo vedere la reazione di Martina nel momento la reazione di Federica nel momento in cui ha toppato completamente quello che stava dicendo tranquillo Guglielmo ce l'ho qui l'rvm lo mando subito io veramente imbarazzante che vergogna barare poi per cosa non c'è un premio veramente non c'è mai fine al peggio qua oh di che voglio non so di cosa voglio oggi e mangi oh senti dai ti stampo due barrette sì dai e si mangiano invece di dire che cos'hai in frigo che cos'hai in stampante che cartucce hai secondo me questa c'è un po' di proteine questa? sì no 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 Federica cacciola pareggia però non perdo no non perdi stai bene meno male sto meglio intanto che ti riprendi da questa non vittoria ho anche cercato di sedurti lo so ti rendi ma hai citato proprio la persona peggiore dovevi fare teoricamente dovevi andare nell'apploda ad acquistare un pene molto orrabile ho cercato di sedurti così hai qualcosa da dire prima di andare avanti? che ne sono uscita vincitrice è vero comunque hai vinto a tutti gli effetti ho vinto che schifo veramente posso dirti una cosa che dice sempre Martina? sì il successo dà ragione a chi ce l'ha ok grazie mille possiamo avere un accendino per bruciare questa maschera per favore allora senti facciamo una cosa ci prendiamo una pausa guardiamo la terza clip però tu sei contento che ho vinto io sono felicissimo io avevo paura di non riuscire a addormentarmi stanotte per il tuo fallimento guarda sono contenta tu mi sembri però più contenta ancora sì io sono felice quando vinco senti Angelo mandiamo la clip 3 sì sì tranquillo ci penso io sì ah beh ti capisco ieri ero un po' distratta e ho messo in ricordo dell'esperienza di un parto naturale di una donna hipster nel corpo di un giudice anziano si è preso un bello spavento accidenti Alicia in qualsiasi caso non dirgli che c'è stato un errore ti darà zero stelle e non puoi permetterti di perdere il lavoro beh nemmeno tu io faccio la dog sit taglio i capelli e tutte le sere gestisco falafelalal sopravvivrò allora di questa scena io vorrei un attimo parlarne bene ok perché da una parte abbiamo lei che consiglia all'amica di nascondere l'errore che ha fatto parliamo di donne sì quante volte ti è capitato se ti è capitato di dover nascondere quella che magari tu reputavi un'imperfezione un difetto pur di ottenere un lavoro o anche solo essere presa seriamente in considerazione beh ti dirò il contrario che più che un difetto mi è capitato spesso di dover coprire quello che a parte il fatto non esistono difetti secondo me in senso ampio però mi è capitato di dover nascondere le tette più volte per dover essere presa in considerazione guarda io poi ho un'altra domanda oltre a questa cioè succede nel senso che io ovviamente ho fatto un personaggio che utilizza il suo corpo in un determinato modo perché quel tipo di personaggio racconta un mondo in cui il corpo viene utilizzato in maniera utilitaristica Martina è per la chirurgia estetica ovviamente non c'è niente di male ma lei davvero è un po' forse eccessiva e si fa molto vedere diciamo una determinata immagine che mi ha attirato fra l'altro tantissimi insulti anche con l'aspetto proprio perché comunque è come se una donna che si presenta una ragazza un po' svampita che fa un video ed è anche molto scollata si merita in qualche modo di essere più insultata rispetto a qualcuno che ha un aspetto più serio e morigerato e questa è purtroppo una cosa molto brutta che è emersa devo dire poi io invece nella mia vita nel momento in cui ci sono state delle situazioni ma anche prima di iniziare il lavoro anche all'università mi sono trovata spesso in situazioni in cui ho impezzato addio forse mi devo coprire di più perché forse sembro poco seria perché comunque io ho una fisicità che è la mia ho un gusto che è il mio il gusto magari di stare spesso con le gonne di stare spesso anche scollata e devo dire che arrivare a poter pensare che sono libera di essere scollata senza che questo significhi necessariamente un abbia un richiamo sessuale di alcun tipo o cerchi di essere in qualche modo seduttivo semplicemente è uno stare con il mio corpo nei panni che voglio vestire ci ho messo un po' è stata un po' dura quindi te la faccio anche opposta come è stato interpretare Martina e nascondere la parte migliore di te cioè hai mai avuto un momento di frustrazione il quale volevi dire ma non sono io oddio quanto vorrei dire questa cosa allora questo fino a un certo punto nel senso che è effettivamente stata vabbè tuttora però in maniera diversa probabilmente l'aspetto più complicato e difficile del lavoro di Martina ma in realtà è probabilmente l'aspetto più difficile del lavoro del lavoro artistico in generale del lavoro di un attore nello specifico degli attori nel senso mettere da parte il proprio ego mettere da parte la necessità di mostrare se stessi cioè mostrare quello che si pensa mostrare la propria capacità di ragionamento cioè mostrare se io ho fatto ho studiato moltissimo nella mia vita durante il mio percorso di formazione la parte probabilmente più preponderante del mio percorso di formazione è stata quella di cercare di eliminare l'ego cercare di eliminare sempre la necessità di emergere io io al meglio questo ad esempio in Italia a volte si può notare come nei film o nelle fiction se guardi il lavoro che stanno facendo i colleghi a volte intravedi veramente la vanità magari di non voler venire brutto nell'inquadratura e questo limita tantissimo l'espressività limita il lavoro che stai facendo e anche nell'esposizione poi pubblica c'è sempre un voler essere giusti belli bravi apprezzati questa cosa nel mio percorso artistico io l'ho combattuta con tutte le mie forze fino a farla diciamo scomparire ad essere probabilmente la persona meno apprezzata d'Italia come Martina ed era giusto così però siccome è una cosa in cui credo proprio fortemente se può esserci un sogno nella vita è questo per me questa è una missione essere un tramite di qualcos'altro a me piace essere tramite di qualcos'altro non di me stessa che palle me stessa ci sto da tutta la vita c'è di più c'è di più quindi è bello se riesco a entrare in un personaggio raccontare il mondo di quel personaggio e in quel personaggio quello che io sono scompare però te lo dicevo pure prima tuffa goci di Martina non me l'aspettavo volevo dirlo davanti alle telecamere perché non conoscendoti avevo il terrore di incontrare comunque una ragazza che pur di andare in opposizione a Martina sarebbe stata seria non avrebbe scherzato perché automaticamente se fosse stata ironica se fosse stato quello quello quell'altro e quindi per assurdo trovi persone dietro ai personaggi che sono ancora più imbrigliate perché è sempre lì è sempre un po' l'ego che soffre e che ha bisogno di essere in qualche modo riconosciuto no no e non me l'aspettavo e a volte conosci una persona che è molto meno interessante del personaggio che tu dici mamma mia sarebbe stato molto meglio avere Martina e invece devo dirlo la fagociti e questo è una bellissima scoperta è una cosa amico muovi un sacco perché se poi ti posso anche mandare a cagare perché si fa non è però è anche tanto schifo esatto poi baro baro i giochi posso dire che ho sempre barato a Monopoly davvero io baro tantissimo comunque e sei contenta però poi della vittoria sì come se fosse meritata ognuno ha i suoi punti deboli ognuno ha il suo peggio senti ti ritiro fuori un attimo invece una considerazione più seria sempre tornando sulla clip che abbiamo visto di upload le donne si filtrano le donne ultimamente lo stanno dichiarando sempre di più penso a alcuni video che ho visto per esempio su youtube o in tv nei quali veramente viene mostrato l'ansia di dire sono incinta perché al lavoro una donna deve sempre in qualche modo cambiare non essere troppo femminile non essere troppo maschile non essere quello non essere quell'altro tu da donna quindi da insider sicuramente più diciamo in questo attenta rispetto a me sei d'accordo che effettivamente c'è un filtro o viene richiesto un filtro sì cioè non dovrebbe essere così però chiaramente ancora non viviamo in una società come dicevamo prima paritaria da tanti tanti aspetti sicuramente non ancora in una parità di genere diffusa a livello culturale proprio intrinseca negli strati sociali che diciamo tu vivi fin dalla prima infanzia non è così tu come come donna sei abituata a delle esperienze di vita che ti portano a dover continuamente essere in qualche modo appropriata ecco questo è un grande ostacolo appropriata in tanti modi in tanti termini perché anche in tante sfaccettature quindi appropriata come fidanzata appropriata come moglie ma anche appropriata come lavoratrice perché comunque il fatto che sei una lavoratrice sei anche una donna per cui il fatto di rimanere incinta fa parte comunque della vita di una donna ma questa cosa ancora non è coesa con la società e c'è ancora qualche difficoltà nonostante adesso si stia facendo moltissimo si fa fatica e aggiungo perché mi sembra una cosa giusta proprio per onestà intellettuale che la cultura patriarcale che poi genera questo sistema non si trova soltanto negli uomini che si trova anche nella donna cioè io temo la cultura patriarcale in me stessa in me stessa cioè sono gli stessi giudizi che io do sulle altre donne e su di me in primis molte volte che mi ostacolano e mi limitano quindi è chiaro che si vive con dei filtri in più io ho un aneddoto pazzesco e che lì per lì mi ha lasciato un po' stupito di una della mamma di una mia amica che ha ricoperto una posizione di forte potere aziendale e lei mi diceva che quando andava in ufficio lei vestiva firmatissima dalla testa e i piedi quindi sempre tagliere da Valentino Chanel scarpe tacco 12 perché diceva io dovevo essere alta perché me li dovevo divorare cioè dovevo essere perfetta perché ero contro solo uomini sì la sindrome di Ginger Rogers che deve fare tutto quello che fa il suo partner maschile ma sui tacchi all'indietro quindi devi fare tutto più in maniera è bellissima questa cosa devi fare di più devi fare di più devi dimostrare di più e questo porta dietro un carico un carico di stress che poi è lo stress che vivono le donne che vivono le donne oggi e che rende effettivamente difficile affermarsi come individuo questa cosa un po' mi fa pensare anche a mia madre perché anche mia mamma è stata una donna manager e lei si comportava e si vestiva molto come un uomo doveva essere doveva avere le palle doveva avere le palle tra virgolette esatto doveva dimostrare doveva limitare e nascondere gli aspetti più dolci più femminili del suo carattere e questa è una delle tante violenze che vengono perpetrate nei confronti appunto delle donne a causa della cultura però sta piano piano cambiando ecco c'è però una dote per quanto io odio le generalizzazioni che è quella della versatilità dell'adattabilità cioè una donna vuoi per contesto sociale vuoi per indole vuoi per quello che ti pare che sia DNA o che sia storico ok ha la capacità di adattarsi nelle situazioni di gestire in maniera liquida e dinamica una situazione questa qui secondo te è una caratteristica dovuta alla storia quindi una caratteristica che in un futuro si perderà o credi che sia un qualcosa innata allora io non credo tanto alle cose innate nel senso che io credo che le persone tra di loro per fortuna non siano tutte uguali noi non siamo tutti uguali dobbiamo essere e dovremmo essere tutti pari ma non uguali ognuno è diverso e chiaramente una donna biologicamente è diversa da un uomo ma al di là della mera biologia che sicuramente influisce anche su aspetti psicologici ma fino a un certo punto perché poi dipende appunto da persona carattere e carattere la persona e persona c'è anche appunto chi non si identifica nel proprio genere chi si identifica in un altro genere per cui credo che in realtà le differenze da questo punto di vista se ci sono derivano più da una questione antropologica sociale e culturale dal contesto dal fatto che le donne sicuramente come genere hanno una propria storia si sono dovute muovere nel mondo in maniera diversa dagli uomini che è pazzesco però il fatto che davanti a una difficoltà comunque l'essere umano riesca a trovare sempre un modo di trasformare magari cose negative in opportunità che per certi versi è brutto che debba essere così ma dall'altra parte è un plauso che invece quello è l'istinto di sopravvivenza assoluta allora hai parlato di istinto di sopravvivenza sappi che avrai bisogno adesso proprio di istinto di sopravvivenza perché stiamo per partire con il mio gioco preferito in assoluto lot sit prima però di spostarci sul cajonna ok tu sai cos'è un cajonna? manco io lo odio calcola però prima di muoverci insomma verso questo segmento finale della puntata vorrei invitare tutti quanti voi a iscrivervi a questo canale attivare la campanella delle notifiche soprattutto metterci un like se vi sta piacendo il tema quindi mi sembra giusto detto ciò detto ciò mi sembra corretto un like fa sempre bene non si nega a nessuno quanto ci mettete cioè click voglio dire non vi sto chiedendo niente di assurdo invece te sto chiedendo qualcosa di più assurdo perché seguimi posizionati sopra questo pacco di amazon che in realtà è un cajonna che si finge è un cajonna? cajonna che sembra un insulto lo so che vuol dire? allora io rep però e tu mi darei un beat ok ora teoricamente si dovrebbe suonare così ti consiglio di farlo se puoi suonarlo all'amazzone ah così ok quindi un beat tipo no quello è quando bussi una porta ok allora il beat è tipo è complicato aspetta vai il gioco è hot seat non so perché è così ti siedi sul cajonna ti faccio una domanda tu entri un quelli in ansia sembra un'evocazione satanica vabbè si schippa una volta facendo un doppio beat sul tuo hot seat grazie ok perfetto ricordati Dario e Laura ok tutta colpa loro colpevo lì l'ho suonato bene mamma mia guarda ho sentito unghie sulla lavagna comporre in confronto melodie allora non si capisce mai che cosa dico perché tu sei troppo impegnata a suonare vero? non hai sentito niente no anche perché suonavo fortissimo e anche in maniera molto ritmica devo dire allora il gioco è molto semplice ti arriveranno delle domande ok da parte della delle persone che ci seguono su Instagram si gli abbiamo chiesto di essere un po' vipere ok ok hai una sola domanda che puoi schippare facendo un doppio beat fai tatam e io devo per forza andare avanti ok tutte le altre sincerità massima ok ok non devo continuare a suonare lo chiedono tutti lo chiedono tutti se devono continuare a suonare non ha senso questo gioco questo gioco non ha senso e siamo alla puntata 3 ragazzi ma la risposta ce l'è quanto andrà avanti devo suonare o no? no che non lo devi fare no no ma non è colpa tua non è colpa tua è sempre colpa di quei due che ti ho detto Dario e Laura bravissima tatuali tatuali nel libro nero allora iniziamo subito raccontami tre punti in comune tra Federica e Martina hai fatto una faccia questa già la sai no no Martina è il mio posto sostanzialmente i punti in comune possono essere guarda l'interesse politico perché in fondo Martina si interessa di temi politici che è eredita da me ok e le tette perché sono le nostre sono quelle e forse un po' beh l'amore per i cani ok in maniera diversa Martina mi schiavizza però però diciamo vista sotto questo va bene ti sei cavata allora hai mai conosciuto una vera Martina dell'ombra tra le persone del mondo dello spettacolo che ti è capitato di frequentare o incontrare la voglio ce n'hai una in mente non la voglio non devi dire ce n'ho una in mente ed è proprio molto semile diciamo tratto io ampiamente ispirazione voglio renderla ancora no 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 non te lo farò mai dire ma è una famosa che si potrebbe conoscere sì allora cosa pensa Martina di Federica mi servirebbe la mascherina di Martina guarda andiamo a fare questa cosa te lo faccio dire scusa se tu interpelli Martina Martina risponde no no lo so stronzo io lo so è sempre qua eccoci qua sono schiacchilante allora allora premesso che non la conosco comunque mi sembra un po' sfigata ok dico la verità ok grazie guarda posso prenderla e proprio nasconderla qua sotto ok senti invece cosa invidia Federica Martina tutto argomenta 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 sono curioso io invidio moltissimo le persone come Martina perché le persone come Martina che agiscono nel mondo rendendosi totalmente adatte al mondo da un punto di vista anche proprio competitivo cioè di logica competitiva Martina è comunque opportunista classista è sempre una vincente nel suo mondo di valori completamente sbagliati però tutta questa superficialità è una cosa che invidia a tanta gente perché le permette di surfare proprio sulla vita senza farsi toccare da niente loro vivono meglio tante volte hanno anche molto più successo nella vita e vivono su una dimensione di semplicità che invece quando affronti la complessità della vita e la profondità delle cose non hai quindi da questo punto di vista la invidio e la invidio anche il botox c'è sempre tempo sappiamo allora a chi ti sei ispirata nella creazione del personaggio di Martina nell'ombra a tante persone non solo del mondo dello spettacolo devo dire tante persone reali tutto un insieme io devo dire all'inizio anche un bel po' di frasi che stavano nei pezzi di Martina sono cose che ho sentito hai sentito proprio quando la realtà supera la fantasia tutte le cose tutte le cose omofobe razziste e classiste che Martina dice io le ho sentite non frequento bella gente però sto nel mondo sto nel mondo e sì quindi mi sono ispirata un po' all'umanità hai mai avuto ripercussioni negative sulla tua vita privata per colpa di Martina ho solo avuto ripercussioni negative per colpa di Martina un tipo? no nel senso che adesso devo capire come raccontarla senza far capire alle persone di cui sto parlando no allora premettendo questo quando ho iniziato a fare Martina i miei amici stessi e anche i miei alcuni miei parenti compreso mio padre non approvavano questa cosa non davano un valore artistico a quello che stavo facendo e pensavano che fosse comunque che stare sul web fosse rovinarsi la carriera la reputazione la reputazione poi ti pentirai di questa cosa che stai facendo io non riuscivo a capire il perché questo mi ha fatto molto soffrire poi quando arrivi a fare la televisione poi è semplice poi è una cosa di cui farsi vanto ma nel momento in cui sei una che dice delle cretinate che per di più vedono milioni di persone insultandola le persone che attorno si vergognano di te siccome a quelle persone tu vuoi molto bene e non riesci a fargli capire cosa stai facendo perché tu hai un tuo obiettivo artistico quello fa ma molto male ti senti sola e comunque ti senti sola sì e poi può capitare che tante persone abbiano un pregiudizio e quindi non è neanche semplice conoscere molte persone ma ti è mai capitato di beccare per strada persone che pensavano ah tu sei Martina sì no un sacco di gente un sacco di gente che mi ha anche insultato una volta sono entrata in una piadineria e una si è rifiutata di quella che lavorava lì si è rifiutata di farmi la piadina perché mi diceva tu sei quella che ha detto quelle cose su internet ma tu non gli avrai detto guarda sì io volevo mangiare io volevo la piadina non me l'ha data e l'ho lasciata senza mangiare ma anche se gli hai detto guarda che no no si è incavolata si è incavolata era diciamo obnubilata ma le persone che si arrabbiano con Martina è difficile tornare indietro è capitato nel tempo però è complicata come cosa quindi da quel punto di vista nella vita privata molto mi ha molto condizionata e poi a volte a me poi è capitato di conoscere persone che in fondo in fondo speravano che fossi come Martina ah c'è l'opposto l'opposto quindi tu eri un problema beh io ero comunque una noiosa pallosa che insomma ha fatto studi no non ci credo letterari cioè così che parla di politica feriamente invece la gente sperava di conoscere ah tu magari magari la gente mi dice tu mi sei simpaticissima Martina che paura poi conoscevano me insomma rimanevano un po' delusi non ci credo allora allora quanto è bello in una scala da 1 a 10 far dire le verità scomode ad un'altra persona Martina non dice le verità scomode però cioè questa è una cosa questo è un po' un se pensi che quelle di Martina siano verità scomode siamo messi male dice c'è un problema sì ok questo qui è un messaggio diretto che ci ha scritto questa cosa esatto sì quindi molto probabilmente è la persona che direbbe grande Martina esatto come se simpatica no non credo dica le verità scomode o meglio penso che dica cose che pensano un sacco di persone ma non sono cose che pensi tu non è una maschera no non sono cose che non è una maschera che io utilizzo per dire delle cose che io penso io penso esattamente l'opposto di Martina gliele faccio dire in maniera tale che di quel ragionamento uno ne possa vedere la surrealtà e anche gli aspetti assurdi cioè dove va a finire da dove nasce e dove va a finire un ragionamento razzista classista o omofobo da dove genera e come si sviluppa quali sono le conseguenze le conseguenze sono dei discorsi astruti che arrivano alla crudeltà più assoluta ed è assurdo pensare che ci sia qualcuno che comunque dica wow che simpatica mentre invece le cose che fa questo per quanto riguarda delle cose che fa Martina delle altre cose che riguardano la satira politica ma in quel caso sono comunque io che faccio la satira politica quindi non è che do voce a Martina do voce ad altro quando lei critica il mondo politico lì effettivamente esprimo qualcosa ma esprimo qualcosa che esprimerei anche con me stessa in maniera diversa ultima domanda ti sei mai vergognata del personaggio che hai creato? allora c'è su youtube un video dove io sono vestita da cheerleader fatta con la webcam cioè con la camerina del picciqui di una qualità infima infame proprio la canzone di Omi quella cheerleader e io dico ora ballo questo balletto da cheerleader Pier Salvini e poi tre minuti di balletto da cheerleader ok ok questa cosa sta su internet cioè questa cosa se tu cerchi il mio nome a un certo punto sputta questa roba qua io mi chiedo ma perché? cosa pensavo? cosa ho fatto? perché cioè è veramente è veramente un'installazione prendiamola alla Abramo ok ok Marina non Martina Marina dell'ombra ci sono tante cose di questo genere che penso vabbè ma solo io la posso prendere da questo punto di vista in realtà è una cagata pazzesca che però diciamo ho la dignità di lasciare online perché ho il coraggio delle mie scelte adesso piango brava brava ci piace così senti abbiamo finito intanto le domande ti chiedo di raggiungermi di nuovo sul divano perché prima di salutarti prima di salutarti dobbiamo non ne ho schippata neanche una no sei stata bravissima e al momento ancora non ne ha schippata nessuna nessun ospite quindi stai qui stai non lo so tu stai cercando in tutti i modi di portare a casa un punto non lo stai portando allora è arrivato il momento sì vediamo Martina siamo pronti per vedere com'è venuta 3 2 1 che carina ma che bella non me l'aspettavo da come avevo iniziato a fare il modo lo senti manco io me la posso prendere? no questa qui la firmi ma neanche un premio la firmi ma io ho vinto davanti certo me la firmi e la prendo lì come Federica ovviamente beh ovvio faccio anche un chissino va bene un chissino di Martina al tuo buon cuore wow grazie mille allora Fede grazie di cuore sia per questa chiacchiera sia per la sorpresa che sei stata è stato un piacere enorme ragazzi siamo arrivati alla fine di questa puntata noi ci prenderemo una piccola pausa quindi nel frattempo mi raccomando recuperate la prima stagione se non l'avete ancora vista anche questa seconda rivedetevela noi ci vediamo presto ciao un chissino ok se ne è andato perfetto grazie al cielo mamma mia finalmente noi ragazzi ascoltate me che di futuro me ne intendo sappiate che molto prima di quanto non pensiate torneremo con delle nuove puntate e dei nuovi ospiti no non sto parlando di Leone perché per lui dovremo più o meno aspettare fino al 2030 ma parliamo comunque di ospiti pazzeschi ci vediamo nel prossimo futuro ciao